Vi volevo proporre una cosa, discutiamole. Abbiamo dei volantini, fare un piccolo corteo, ma veramente attraversiamo la strada, andiamo verso il principe e diamo i volantini. Una questione di 10-15 minuti. Questa è tanta storia, attraversiamo qua dalle strisce, andiamo sul balciapiede, non blocchiamo il traffico, arriviamo alla stazione, un attimo informiamo la città di questa cosa qua. Non va a mettere niente il contrario. Cazè! Cazè! Cazè, cazè minuità! Natale, 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 Masolidare! Natale, Natale, Masolidare! Una sola identità è la nostra humanità! 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 È la nostra humanità! È la nostra humanità! Questo viene chiesto qualcosa in più per poter vivere dignitosamente! Purtroppo molti di noi subiscono delle ingiustizie! Queste sono anche notizie che non vengono più nei giornali! I senegalesi insieme a continuare tutto questo brazzismo e insieme a molte altre persone ha deciso di reagire all'ennesima ingiustizia! C'è chi lucra! Non lavorano le nostre contenite negativi! Fanno un culo così! Scusate le espressioni! Che lavorano un casino nelle stagioni, un cappino di ore! fanno le spiagge, riparbiano, ma per cosa? Per poi? Dover buttarvi ai soldi, darvi a persone senza scrupolo! Oggi siamo riusciti a bloccare lo spazio! E non vogliamo disturbare nessuno! Quindi tra poco ce ne andiamo, possibilmente così come siamo arrivati! Un ultimo slogan! Distribuiamo questi conattiti! Hai reso due persone felici! E poi salutiamo l'aliente famiglia! Sì, sentendo un po' perché è in italiano! Cazze! 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 Grazie a tutti.